Un viaggio da Flores Multimedia in studio Mauro Ciutini, personale su strada sulla 12 la Genova Rosignano tra Rosignano e Colle Salvetti in direzione di Livorno, traffico intenso anche sulla Firenze Pisa Livorno tra l'allacciamento A1 e la Strassinac in direzione di Livorno, spostiamoci sulla 11 traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est la direzione è quella per Pisa. In A1 c'è ancora traffico rallentato all'uscita di Firenze Sud provenendo da Bologna e sulla panoramica ricordo il tratto compreso tra l'allacciamento con l'A1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna resterà chiuso fino al 18 giugno per lavori. In chiusura lavori alla consuma, la tatale 70, una parte interdetta alla circolazione dei mezzi pesanti e per i veicoli c'è un senso unico alternato con semaforo, lavori previsti fino al 16 giugno. Mauro in Toscana con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.